Aspetta Andrea, oggi l'intro la faccio io. Ciao sono Pollo, e benvenuto nell'Arte Graffa Lab. Oggi è primo maggio, e andiamo a customizzare una fava, con i nostri fantastici Uniposca. Ciao sono Fava. Aspetta aspetta, la campanellina. Iscrivetevi e attivate la campanellina. Allora signora Fava, com'è stata la sua espserienza? Beh, devo dire, che sono molto contenta di questo mio nuovo look. Spero proprio, che questo video raggiunga i mille like. Check the mic and make sure it sound right, boys. Grazie a tutti. It sound right, boys. Ciao. 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 Al prossimo episodio